Quest'anno ci hanno riconfermato piacevolmente per il terzo anno di fila. Quest'anno offriremo ulteriori novità perché saranno con noi ospiti nuovi come Giulio Giorello e Leonardo Caffo, il secondo filosofo giovanissimo, classe 88, siciliano, molto interessante. In più per tutta la durata dei tre giorni il festival sarà impreziosito da una mostra che rimarrà per tutta la durata del festival, visitabile dalle ore 18 fino alla chiusura della Rocca Malatestiana, curata da Valeria Cardinali e Milena Becci. Esporranno gli artisti Marco Pucca, Cesarena Giorgi, Giulio Perfetti e Rodrigo Blanco.